Brioche super morbidissima, senza glutine, senza mix commerciali e senza maizena. È un vero privilegio riuscire a fare una colazione così magari durante le feste natalizie senza dipendere dai mix commerciali che oggi ci sono e domani non si sa. Ma seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Questa brioche mi ha dato una grande, grandissima soddisfazione. Ho utilizzato la stessa ricetta che trovate anche sul mio libro I miei dolci senza glutine in vendita su Amazon sia in italiano che in francese. Ve l'ho già mostrato nei Roti Boy, vi metto il link qui sotto così gli date un'occhiata. Ho fatto una dose un pochettino più grande. Ho fatto sciogliere nel latte tiepido lo zucchero e il lievito secco. Poi ho mescolato in una ciotola tutti gli ingredienti secchi, quindi le farine, la fecola, l'amido e l'oxantano. E infine ho versato nella ciotola sia il latte con il lievito, sia il miele, sia le uova. Ho iniziato ad impastare. Io questa volta, come succede spessissimo, ho utilizzato la frusta con i ganci per impastare. Però potete utilizzare la planetaria con l'accessorio foglia. La prima volta che l'ho preparato l'ho usato con la planetaria. Così mi sbrigo subito. Siccome non sono delle grandissime quantità, si può utilizzare anche la frusta elettrica con i ganci. Ho impastato per circa 6-7 minuti. Poi ho versato il sale dopo aver staccato l'impasto dal bordo della ciotola e averlo ribaltato. E dopo pochi minuti ancora ho aggiunto il burro molto morbido. Se non potete utilizzare il lattosio, potete usare sia il burro del lattosato sia la margarina. Ho impastato per altri 6-7 minuti con le fruste. E poi mi sono spostata sul silpat e ho continuato ad impastare lì, come faccio praticamente sempre. È il miglior modo per impastare affondando le mani, senza che si appiccichi l'impasto sempre alle mani. Ho unto il mio silpat. Se non avete un silpat potete usare della carta da forno. Ho versato la pasta e l'ho impastata in questa maniera, come vedete, per altri 5-6 minuti. Fino a quando non ho ottenuto un impasto omogeneo. Non bisogna essere precisissimi in questa fase perché continueremo a lavorare la pasta dopo averla ritagliata in porzioni. Dopo aver lavorato così l'impasto, vedete, si appiccica sia la spatola sia i guanti, se non si hanno tutti gli strumenti benunti di olio. Non di burro, ma di olio. Di olio di semi, un olio neutro. Dopo aver finito di lavorare la pasta, l'ho pesata. Nel mio caso avevo 680 grammi di pasta e l'ho divisa in 8 bocconcini di circa 85 grammi l'uno. L'ho lavorato un altro pochettino in maniera da darle una forma regolare e poi l'ho ritagliata. E ho pesato ogni singolo bocconcino così da avere una brioche un pochettino più regolare. Io questa volta ho utilizzato uno stampo in cartone, tipo quello, un pirottino, tipo quello dei panettoni per intenderci, uno stampo da prune cake. Dopo aver porzionato la pasta, ho lavorato ogni bocconcino in maniera tale da ottenere una pallina liscia, sempre con il silpat benunto e le mani benunte. La pasta tenderà ad appiccicarsi un pochettino, ma non vi preoccupate perché tanto la lavorazione continuerà dopo. Una volta terminato di formare tutte le palline, ho spolverato leggermente, ma proprio poco, il silpatto con un poco di fecola. Questo mi permette di rendere la pasta molto molto liscia, però non bisogna abusare con la fecola, altrimenti la pasta rimane separata, non si attacca bene. Quindi prima stendiamolo in un ovale, poi ripieghiamo i lembi a portafoglio, allunghiamo un pochettino e arrotoliamolo. Questo ci permetterà di ottenere un bocconcino il più regolare possibile. Lo continuate a lavorare un pochettino. In questa fase, quando proprio si finisce di fare questo rotolino e lo si vuole rendere nuovamente sferico, bisogna lavorare con le mani un pochettino unte, perché la fecola di patate fa venire la superficie molto screpolata e piuttosto brutta. Ho sistemato man mano queste palline nel mio stampo. Adesso poi, quando finisco, vi mostrerò come li ho disposti. Poi è falcostativo, chiaramente potete fare come volete, li potete affiancare e non alternare come ho fatto io. Si perde un pochettino di tempo in questa fase. Questa in effetti è la fase leggermente più lunga, che richiede un po' più di tempo e di pazienza. Mi raccomando, spolveriamo sempre pochissimo con la fecola. Questo ci permette tra l'altro anche di non fare appiccicare l'impasto alla spianatoia. Quindi bisogna adeguarsi alla consistenza della pasta usando sia le mani unte, sia la fecola di patate o l'amido di riso, gestendola in maniera tale da cercare di ottenere la superficie il più liscia possibile. Ecco, questo è lo stampo che ho utilizzato. Sistemo l'ultima pallina di impasto e cerco di sistemare tutte le palline in maniera tale da cercare di ottenere una brioche il più omogenea possibile. Infine ungo di nuovo i guanti con dell'olio e cerco di lisciare il più possibile la superficie. Non otterremo mai qualcosa di estremamente perfetto, ma il più regolare possibile perché no. Fatto questo, sistema ancora queste palline in maniera tale che si distribuiscano bene all'interno dello stampo, poi copro con pellicola trasparente e lascio lievitare fino al raddoppio. Io l'ho messo nel forno spento e ho messo all'interno del forno un pentolino con acqua bollente. Dopo circa un'ora e mezza l'impasto era raddoppiato, poi non ho dovuto fare altro che battere il tuorlo con qualche goccio di latte e pennellare la pasta. Io ho pennellato una prima volta, ho lasciato riposare 10 minuti, ho pennellato una seconda volta e poi ho infornato a 180 gradi in modalità statica per 25 minuti. Siccome il cartone tende a deformarsi, l'ho appoggiato su un fianco del forno in maniera tale che rimanesse ben fermo e non si deformasse troppo. Poi l'ho sfornato una volta cotto e l'ho messo a raffreddare sulla griglia lateralmente così non si affloscia troppo. Vedete è morbidissimo, è morbidissimo sia quando è caldo che quando è tiepido. Poi presa da un raptus di ingordigia ho voluto farcire ogni singola pallina con della crema spalmabile al cioccolato fondente molto buona. Anche questa deve essere certificata senza glutine. Le ho farcite tutte tranne una in maniera tale da farvi vedere com'era la mollica all'interno. Ovviamente questo è facoltativo, potete anche non farlo, è buonissima anche così al naturale. Tra l'altro non essendo esageratamente dolce potete usarla anche con un condimento salato oppure al naturale. Infine l'ho spolverata con dello zucchero a velo ma anche questo è facoltativo e l'ho gustata, è morbidissima. Guardate qua che meraviglia, questo è dopo circa due ore dalla cottura. Questa è la porzione che non ho farcita, adesso vi faccio vedere quanta è morbida. Stiamo parlando di mix casalingo, non di mix commerciale, quindi è chiaro che non dovete aspettarvi delle cose stratosferiche, però nonostante tutto il risultato è davvero fantastico. Guardate qua, la mollica è super morbida, micro alveolata, non devono esserci degli alveoli troppo grandi perché comunque stiamo parlando di una brioche non di un pane, guardate qua che meraviglia. Il sapore è veramente buonissimo, la brioche si conserva morbida per l'intera giornata e anche l'indomani resta morbida, però potete porzionarla e congelarla per poi lasciarla scongelare a temperatura ambiente. Non serve riscaldarla, però siccome c'è comunque una minima quantità di burro, se volete rigenerarla un pochettino la passate velocemente nel microonde. Guardate che spettacolo, mamma mia è veramente buonissima. Questa è altro che colazione da poveri celiaci, qua c'è da fare festa veramente. E non solo nelle festività natalizie, ma tutto l'anno. Come vedete la ricetta è molto semplice, vi invito a provarla a casa vostra e poi a passare per lasciarmi un commento e dirmi come l'avete trovata. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna ricetta gluten free. Grazie e alla prossima ricetta. Enjoy! Grazie a tutti!